Segui un uomo, si vede con il mio uomo La vuote? Aucce, veniva Escolino che qualcuno ha avanti Ehi, mi ha visto quello aucce Aucce E' riuscita E' riuscita, vedendo, vedendo E' riuscita E' riuscita Le tue vede Magliarra guarda quel motore Poi c'è la quarta con il motore col matton io cire, infatti, vieni, vieni,ين Vieni, vieni , vieni Corti e meidupo Oh, no. I metti un alto punto. Avanti, io ho visto. Sì, sì, vai, caldo. Sì, mi sono messi bene, io ho già. Ma non mi faccio, non so non lavorare e praticamente sono stagno. Mi vedo che si è lavorare, ecco. E' una pitaccia. C'è l'unica. Eh, immagino, ma tu la conosci anche nella tinta? Sì. Eh? Che stai amando, non capito? Dice, se non andai, se non andai, non mi faccio un momento sicuramente sessuale? Sì. Oggi ti ho scusato, tranquillo, eh. E se non gli stanno andando nella pinta? Sì. Perchè mi dice, se non andai a fare l'occasione io. Io sono venuta a fare l'occasione. Sì. 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 Se non mi piace, se non gli amici. T'è un'esercizio, non? Si non è un'esercizio. Ramos! Sì. Si non è un'esercizio, non? Si non è un'esercizio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.